Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati dal mio canale, oggi sono di nuovo qui su Minecraft Vanilla per questo episodio E la prima cosa che vorrei fare ha a che fare con queste belle pecorelle Dunque queste pecore io non le ho prese solo per allevarle, tenerle qui carucce come sono Vorrei fare una farm di lana, per iniziare una farm di lana ho bisogno di una pecora per volta Perché ogni farm singola potrà produrre un colore di lana finché non lo cambiamo Quindi io per il momento vorrei della lana bianca e della lana rossa Quindi inizierò con una di queste qui ancora bianche, se dovesse funzionare ci riproverò con la versione rossa Dunque, davvero? Fino a due secondi fa non c'era nessuno a darmi fastidio e adesso sei arrivato tu Ehm, e pure tu? Ho fatto una farm di mostri per tenervi lontani da casa mia per poter andare a prendere solo i vostri oggetti Senza dover rischiare di schiattare ogni volta e invece voi venite tutti a dare fastidio a me Eh, dai, dai, butta la freccia Bravo! No, 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 stavo aprendo Comunque, per fare questa farm Forse avrei dovuto iniziarla di giorno Comunque, direi di allargare un po' questa zona Per favore, dai, sto cercando Un minimo, un minimo Non entrare dalle mie pecore Ok, basta Ma quanti mostri ci sono? Basta? Allora? Chi è che mi tira le frecce? Guarda come corre veloce! Sono impazziti Ma che succede questa notte? Stanotte sta succedendo di tutto Basta! Tra l'altro in moltissimi mi avete detto Pulisci l'inventario per favore E io ho fatto del mio meglio Adesso non guardate che ho tre diamanti qui E degli occhi di ragno E del loot dei mostri Ma ho appena fatto a botte con loro Però ho cercato di pulirmi il più possibile Aspetta, guarda che combattono tra di loro Stavo cercando di godermi uno spettacolo Allora, questi due mostri combattono tra di loro Io scommetto su A quanto pare a lui non andava bene La mia scommessa, giusto? Ha vinto lo zombie! Avevo scommesso su di te No, non ti attacco Non ti attacco Non ti attacco a te Hai distrutto lo scheletro che mi dava fastidio Quindi adesso me ne vado E non sarò violento nei tuoi confronti Solo con il ragno Perché è entrato a casa mia E mi è saltato addosso Beh, sono stato un pochino in miniera E questo è il risultato Non ho trovato dei diamanti purtroppo Però ho trovato un botto di redstone Un po' d'oro Combattuto con un paio di creeper Un po' più di un paio di creeper E ho preso 54 pezzi di ferro Dunque, se non vado errato per fare questa farm Serve innanzitutto un hopper Quindi ho fatto della legna Prima creo delle chest Che ormai tutto il ferro che ho Lo sto spendendo in hopper Quindi va bene così Ecco il dispenser Poi credo serva un observer Ok, ecco un observer Nel dubbio me ne faccio anche un altro Che non si sa mai Allora adesso vorrei prendere una pecora E spostarla di qui Per fare appunto la prima farm Per farla devo liberare un pochino di spazio Devo anche andare a aggiustare il piccone Effettivamente Era per questo che avevo preso questi diamanti Perché questo è il mio primo piccone inciantato E non vorrei già perderlo Ecco, quindi Ci mettiamo un po' di diamanti E l'abbiamo riparato Il mio piccone con efficienza 2 E fortuna 1 Che per i diamanti potrebbe essere un bel plus Magari non come fortuna 3 ovviamente Però è già qualcosa Quindi Tiac Andiamo di qua Con il fieno Cercando di prenderne solo una di pecora E io vorrei una pecora bianca Quindi Ah no, aspetta È vero, è vero, è vero, è vero È vero Con il lazzo posso prendere le pecore Una ad una E portarle dove voglio Mi dimentico sempre questa cosa? Ok, qua c'ho il mio lazzo Quindi adesso con questo lazzo Posso andare a prendermi tranquillamente Prima che diventi notte di nuovo però Una pecora Io direi di iniziare con una bianca Quindi Tiac, presa Adesso la dovrei trascinare fuori Chiudo il recinto Vieni qua Come faccio a spingerla proprio dentro? Ah beh, posso proprio spingerla Vai dentro? Vai dentro pecora Vai dentro Ancora un po' Aspetta Ok, aspetta, 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 aspetta Ci metto il vetro Così non puoi più scappare E Adesso tolgo anche il lazzo Oh E abbiamo intrappolato la pecora qua dentro Il primo step è stato fatto Sperando che non ci siano anche questa volta dei mostri e darmi fastidio Ciò che ci serve per questa farm è un minecart con l'hopper Un hopper Un dispenser della redstone E niente di più In realtà dobbiamo fare così E poi mettiamo il dispenser Però lo dovrei mettere verso di lei Spero di riuscire a farcela in qualche modo Allora, come faccio a metterlo verso così? È dalla parte giusta? Ok, sembrerebbe dalla parte giusta Ricopro qui E questo dispenser deve avere all'interno delle cesoie Per continuare a tagliare la lana alla pecora Poi dobbiamo fare un po' di spazio dietro il dispenser Perché deve esserci un collegamento di redstone Così Poi prendiamo un pezzo di redstone E adesso il resto sarà Oddio no Oddio i phantom Stavolta mi hanno spaventato Questo era uno spavento sincero No, 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 no Arrivano anche i villager zombie È meglio stare un attimino in casa Sembrerebbe quasi che stia tornando giorno Però i mostri sono ancora tutti qui Eppure lui No, no, lui sta cominciando a bruciare Eh, phantom Volevi farmi fuori, eh E invece Uh, mi si stava per rompere la spada Mi si stava per rompere la spada Aspetta, aspetta, aspetta Lo so che è solo una spada di ferro Però ci tengo E anche questa è la mia prima spada enchantata E come vedete Ha anche un enchant livello 3 Quindi non troppo male Allora, aspetta Prima bisogna liberarsi degli intrusi Vieni qua, intruso Intruso Anche tu sei un intru Mi ha dato fuoco Mi ha dato fuoco Ma vabbè Allora, dicevamo Qui bisogna adesso scavare verso il basso E devo scavare proprio tutto il livello sotto Da quello che ho capito In modo tale che io possa mettere un observer Qui proprio al centro In modo tale Che quando la pecora andrà a mangiare L'erba qua sopra L'observer puntato verso l'alto Dovrebbe riuscire a vedere il tutto E far sì Che si attivi il meccanismo Solo che c'è un problema Io come faccio? Volete dire che sta guardando la... Aspetta, fammi vedere Non ci credo Ma ho trovato anche del ferro Ma va che fortuna Allora, siccome non riuscivo a mettere l'hopper Come avrei dovuto Ho fatto una versione Un pochino diversa Cioè l'hopper l'ho messo direttamente sotto al dispenser Che dovrebbe guardare esattamente lì Cioè se io togliessi questo blocco Perché è al contrario Cioè la faccia dovrebbe stare dalla parte in cui guarda Quindi ok In questo modo è giusto Rimetto il blocco E adesso dovrei mettere qui una rail Che me l'ero preparata prima Così Su questa rail va messo il minecart con l'hopper E da qua Se non vado errato Ci va niente Perché sennò casca tutto Che fail No Aspetta Non dovevo fare così Allora In teoria così dovrebbe funzionare lo stesso Solo che non ho più il minecart con l'hopper Ma lo devo craftare Quindi Minecart Hopper Lo metto qui E adesso in teoria dovrebbe funzionare ogni volta che ricresce E appena il prato ricresce Lei lo mangia Dunque Provo a fare una cesoia E togliere manualmente All'inizio Il manto della pecora Perché non capisco che cosa ho sbagliato Ma non sta funzionando Però è anche Non è neanche tosata Quindi Dai Non ce la faccio Aspetta Dunque Salto sopra Così No sono No Che sfortuna Salve pecora Vorrei uscire Un secondo Non esca lei Non esca Stia ferma un attimo Stia ferma un attimo Non esca Non esca Non esca E niente Aspetterò che ricresca Per vedere se funziona o meno la farm Poi devo sostituire questo blocco di legno con del vetro Però il concetto di base è questo Dove bisogna prendere un 3x3 In realtà Poi questo l'ho fatto solo per andare a prendere la roba Infatti qui adesso ci vorrei mettere delle scale Dovrei anche poter chiudere un pochino in questo modo Giusto Così io arrivo qui E c'è solo la chest Da cui posso prendere il loot Però qui non sta crescendo il prato Quindi quanto ci vuole Buongiorno Ho portato il pezzo di vetro mancante Adesso glielo metto qui Non scappi Non scappi Stia ferma un attimo Ok di nuovo Quindi credo che metterò degli slab Così Non dovrebbero neanche poter spawnare I mostri sopra Quindi faccio così E l'ho chiusa qua dentro In teoria questa è la farm Però Ecco è cresciuto questo Adesso deve solo crescere quello al centro Dai ti prego Cresci Uh è cresciù No dai Proprio adesso che No devo vedere se funziona Maledetto scheletro Devo solo vedere se funziona la farm Perché non mangia Dai mangia Dai mangia l'erba qua sotto Qual è il problema? Pecorella La mangiata? Ok è cresciuto Funziona Funziona La lana è qui Funziona Ok 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 Perfetto La farm funziona Quindi ne farò un'altra specchiata Da quest'altra parte Quindi Zombie Non stavo cercando Te Comunque Metto un po' le basi per la prossima Torce tutto intorno Qua ci andrà vetro 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 Riuscire a fare con il vetro Che mi è rimasto Di corsa 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 Allora Qui 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 e qui No in realtà Uno devo lasciarlo aperto Se no come faccio a farlo entrare Ma porco cane Lasciami stare Lasciami Vai via Vai via Siete fastidiosi Come 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 Nacatapult No vabbè A parte gli scherzi Per favore Mostri Sto cercando di Spiegare delle cose Adesso voglio fare Qua ci voglio mettere Quella rossa Ovviamente Poi qua magari ci metto Quella rosa Poi farò una bella fila Per tutti i colori Che riuscirò a prendermi Tra l'altro Metterei anche già sopra Così In modo tale da Poter Ah I phantom Via 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 Vabbè comunque più o meno avete capito Come si fanno queste Farm per la lana Adesso devo solo farla Un'altra volta E poi dovrei esserci Pecora rossa Vieni con Ah no aspetta però Io prima vorrei farne Vabbè posso sempre colorarne Delle altre di rosso Vieni con me Vieni No non fare i 360 Devi solo uscire di qui Vieni Passa di qua Passa di qua Brava Brava No aspetta Ti spingo piano piano Nel posto in cui dovrai stare Per un pochino di tempo Non ti preoccupare È una situazione Temporanea Non è vero Rimarrei qui per un sacco di tempo Mi spiace Ha già funzionato Però io devo togliermi il lazzo Finita anche questa farm Questa è rossa Dovrei mettere dei cartelli Perché quando non hanno la lana Sono tutte Dello stesso colore Mentre solo con la lana Cambia Infatti stavo dicendo Ma come questa è bianca Ma io me la ricordavo rossa Comunque io direi che per questo video è tutto Se vi è piaciuto Potete lasciare un bel mi piace In questo momento Se volete altri episodi Continuate a dirmelo nei commenti Se non siete ancora iscritti Potete farlo adesso E noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao a noi